...di scambio che vuole non dialogare con le piattaforme dei centri per l'impiego, e questo ha creato ovviamente delle difficoltà, quindi, ovviamente, irregolari... ...in strada, in strada, in strada, in strada, con uno strato, in strada, 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 in strada... ...diciamo, non... ...in strada, in 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 strada... ...il territorio si possa valorizzare solo attraverso il controllo... ...questo è un evento molto importante per la nostra città, è importante che l'autorità di gestione e la regione Liguria abbiano deciso di organizzare questo evento alla Spezia, perché ci vede protagonista nella presentazione di un programma, l'Italia-Francia-Marittimo, che nel tempo è sempre stato un programma riservato alle città di mare. I fondi comunitari sono essenziali per i comuni, sempre più importanti perché di fatto abbiamo una riduzione di quelli che sono i finanziamenti statali e quindi attraverso l'utilizzo di programmi comunitari possiamo sicuramente andare a rendere operativa la nostra progettualità. Il programma da 42 milioni di euro, quindi credo che il Comune parteciperà e parteciperà cercando di valorizzare quella che è la rete per il lavoro che è già attiva in Comune attraverso lo sportello infolavoro per creare migliore occupazione, quindi un'occupazione di qualità e una mobilità tra studenti. Il programma Interreg Italia-Francia-Marittimo 1420 è un programma di cooperazione trasfrontaliera marittima che coinvolge le regioni della costa toscana, la Liguria, la Sardegna, la Corsica e le due regioni di Var e Alpe-Marittime della regione Provence-Alpe-Côte d'Azur. Oggi con l'autorità di gestione, il segretariato congiunto e l'assistenza tecnica abbiamo presentato l'avviso, il terzo avviso di finanziamento di progetti e in particolare abbiamo fatto un focus sul lotto relativo alle opportunità di impiego e alla promozione della mobilità di laboratori e di studenti sempre in un'ottica di promozione delle opportunità di impiego.